Per me il Foria è una passione che ho da quando ero bambina. Poi mi hanno chiesto di far parte della società e ho accettato. Domenica c'è questa prima partita, ovviamente la Coppa Italia non conta molto, conta piuttosto il campionato di iniziare con l'altra settimana. Per me invece conta anche la Coppa Italia. Secondo te come vedi questa squadra? Si stanno allenando molto bene, si stanno impegnando tanto, sono molti giovani, ci sta qualche giocatore d'esperienza che aiuterà comunque i ragazzi più giovani in campo. Non la vedi queste due squadre a Forio? Io diciamo che sono neutrale, non mi schiero in una decisione di un no e in una decisione di un sì. Faccio fare a chi è di competenza la cosa. Però pensatevi che è uno sbaglio che anche tu hai firmato che possono giocare qua? All'inizio ho pensato che poteva essere uno sbaglio, poi alla fine io sono una persona pacifista su queste cose. Se si deve fare la guerra a Forio io preferisco non farla. Un appello al pubblico, i tifosi che si sono anche un po' divisi, però diciamo la domenica potrebbero stare da tutte e due le parti, visto che qua sicuramente si giocherà alternati. Si giocherà di sabato molto probabilmente il campionato. e spero che chi veramente ha la passione per il calcio e per il Forio sia presente sul campo.